Salve a tutti, buona vista e quindi siamo qui con un nuovo video introduttivo sui Lego Creator quindi direi di iniziare a montare le nostre cose. Alessandro tu cosa fai in T-Rex? Io farò lo pterodattilo mentre Francesco farà il motoscafo. Vi lasciamo alla videocreazione e via! Iniziamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, qua vi facciamo rivedere l'opterodattivo. Vi ho messo le ali piegate perché sennò non entra tutto visuale anche se già li suona. Fai vedere gli artigli che c'ha. A proposito, gli artigli li ho girati così che si vedano meglio. Ce ne sono due grandi e due piccoli. Sennò di vedere il muso. Il muso che è un po' strano, che somiglia a quello di un iguano d'olte. Somiglia a quello di un iguano d'olte. E niente, questo era il video montaggio lego. Esatto. Ci siamo qui e quindi ciao! 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 Ciao!